Bella Gazzettari ben ritrovati con un nuovo video qui dalla Gazzetta MMA vi porto la traduzione delle parole di Valentina Shevchenko in seguito all'incontro pareggiato con la Grasso un incontro sul filo del rasoio il secondo incontro e quindi aspettiamo qui da avere in trepidante attesa la trilogia però fatemi sapere se dal vostro punto di vista le parole della Shevchenko considerando poi come è andato l'incontro sono parole troppo dure oppure se magari sono semplicemente dettate dall'emozione del momento e se siete d'accordo o no scrivetemelo qui sotto nei commenti ciao belli I think it really was 3-2 in my side but judges I think felt a little bit like pressure because it's kind of like Mexican Independence Day that's why they give one word to the Mexican fighter You made a lot of adjustments before this fight was this the fight you expected with Alexa Grasso? I fear but I was expecting the battle and I went like through the war I fought to the end till the end and I think I did enough in the fair fight in the fair competition victory would be mine You have always been a great champion what a phenomenal performance ladies and gentlemen give it up for the former champ Valentina Shevchenko Come on!